1, una bella storia, Massimo Andreani, il 2, Rania Caff, Biaggiolo Verde, il 3, Urai, Enrico Maisto, il 4, Up and Go, Warner Martellini, il 5, Utopia Lux, Davide Di Stefano, il 6, Wina Lady SM, Antonio Di Nardo, il 7, Unica, Eric Bondo, queste in prima fila, da sola in seconda fila, Urra Griff con Lucio Becchetti. Abbastanza buono l'allineamento, desiste Wina Lady SM, con prudenza anche la favorita unica, allo stacco emerge subito Urai, a scavalcando Urania Caff. L'errore per una bella storia, mentre in terza posizione alla corda c'è Up and Go, dietro la quale sta ripiegando Utopia Lux, unica che si mette in azione all'esterno, in coda Urra Griff, Wina Lady SM. Dopo il veloce parziale d'avvio sullo slancio, Urraia completa il quarto iniziale in 30 secco, ma ora sta decelerando, ne approfitta Unica per puntare in avanti. Va decisa al lato dell'avversaria, Urraia leader, unica al suo esterno, dopo esattamente 600 metri di gara, in 45 e 4, con Urraia che replica unica, segue Urania Caff davanti a Up and Go e Utopia Lux. Quindi più indietro, Wina Lady SM, le due più attese all'avanguardia, con la favorita unica all'esterno di Urraia, che la impegna con decisione sul rettilineo di fronte, segue a contatto Urania Caff. Nel frattempo il chilometro è in 1.15.4, con Unica che insiste e passa su Urraia, si affaccia all'esterno Urania Caff, mentre Unica allunga e prende vantaggio. Urraia che viene attaccata da Urania Caff, quindi Up and Go e ancora Utopia Lux, ma Unica sembra aver fatto il vuoto quando siamo all'ingresso e retta d'arrivo. E Urania Caff invece attacca Urraia per la seconda posizione, prova ad avvicinarsi a Up and Go in anticipo su Utopia Lux, Unica che prosegue in avanti, in chiaro vantaggio, su Urania Caff che attacca Urraia. Poi Up and Go nel finale, Unica in larghissima evidenza, mentre Urania Caff attacca sempre Urraia, trova il barco ora anche Utopia Lux sul palo, è proprio Utopia Lux che ha ragione della compagna di allenamento Urania Caff, che a sua volta piega Urraia per la terza piazza, affermazione da lontano per la favoritissima Unica con Eric Bondo, i colori della scuderia Wave, poco più di due minuti sul mio cronometro, con percorso d'assalto, davvero una cavalla interessante questa figlia di Love You, 15.1 la media al chilometro, scusate, secondo il mio cronometro, per Unica numero 7, davanti al 5 di Utopia Lux, il 2 di Urania Caff, questo è l'arrivo ufficioso della settima di Capannelle. Grazie.